Allora Pier, Lorenzo ti chiede, entrando nel mondo degli stigmatizzati, da come si racconta sembrerebbe che Padre Pio avesse avuto molti problemi di salute. Potrebbe essere perché assorbiva il karma negativo delle persone che confessava? Ma gli stigmatizzati assorbono il karma dell'umanità, non è che assorbono il karma solo di chi confessano. Gli stigmatizzati sono di fatto Gesù sulla terra. Nessuno stigmatizzato può vivere con quelle ferite se Cristo non è in lui. È impossibile. Lo stigmatizzato è uno che muore e risorge ad ogni sanguinazione, perché nessun corpo semplicemente umano può sopportare quel dolore per decenni e tutte le sofferenze che ne conseguono se non c'è Cristo che in quel momento sostiene, vivifica e resuscita quel corpo martoriato. Quindi di fatto gli stigmatizzati sono i calici che contengono Cristo, perché Cristo, la sua missione non è finita, ma non è che c'era la sua prima venuta, poi un buco di duemila anni e poi c'è la sua seconda venuta. La missione di Cristo è una, quindi Gesù è sulla terra da duemila anni, in spirito fino a un certo momento attraverso gli stigmatizzati che erano l'espressione vivente, fisica della sua presenza in mezzo a noi. I calici viventi, il santo graal. Poi, questo perché? Perché Cristo, Gesù, Gesù Cristo è venuto per fare il nuovo regno. Siccome nell'incarnazione noi non possiamo non peccare, c'è impossibile che noi non commettiamo delle ingiustizie nell'incarnazione. Io prendo la macchina e inquino. E quindi già sto commettendo un reato, cioè sto violentando madre natura. Compro l'acqua in bottiglia di plastica perché mi è più comodo, perché se no sono costretto a dedicarmi più a quello che all'opera, ma comunque sto commettendo un peccato, eccetera, eccetera, eccetera. Nelle relazioni umane, per bravi che siamo, è molto difficile che siamo perfetti e quindi non facciamo soffrire qualcuno e quindi ci carichiamo di karma. Però il Signore, siccome lo serviamo, continua a sanguinare e ad essere in croce per noi perché ci vuole salvare, cioè lui vuole fare il regno. E quindi dice state con me, servitemi, fate quello che potete, il resto ci penso io e infatti ci pensa lui. Io vi ricordo quando il giovane ricco se ne va perché Gesù gli dice vendi tutti i poveri e vieni con me, cioè gli offre di diventare un apostolo. E il giovane ricco, ma non perché doveva il giovane ricco diventare povero, ma come fai a curare i tuoi beni e ad essere al seguito del Signore? Cioè quindi ti liberi di tutto per essere libero, cioè per acquisire il grande privilegio di servire Dio in terra. Cioè in quel momento c'era Cristo sulla terra, carne e ossa, quindi lui era al di sopra di tutto, non c'era ricchezza che poteva eguagliare l'enorme privilegio di essere con lui. E invece il giovane ricco se ne va. E Pietro si scandalizza perché Gesù gli dice è più facile che un cammello passi nella cruna di un ago piuttosto che un ricco entri nel regno dei cieli. Quindi questa cosa lo spaventa Pietro, dice signore ma se è così difficile forse anche noi gli abbiamo lasciato tutto, non riusciremo a entrare nel regno. E Gesù gli dice non ti preoccupare Pietro perché ciò che non è possibile all'uomo è possibile a Dio. Quindi Gesù gli sta dicendo stai tranquillo, tu servimi, seguimi, io accetto anche che tu sbagli, addirittura Pietro rinnega Cristo, quindi altro che errore. Cioè tutti gli apostoli tranne Giovanni hanno rinnegato il Signore in un modo o nell'altro. Gesù è morto solo come un cane nella croce, c'erano solo sua madre, le piedonne e il ragazzino Giovanni l'Evangelista. Ma i grandi e sapienti e saggi apostoli tutti nascosti dietro gli alberi nei cespulli per paura di essere uccisi dalle guardie del Tempio dei Romani. E quindi gli stigmatizzati compiono questo servizio. Soffrono, si ammalano, è una malattia divina perché è Cristo che soffre per noi. Ovviamente anche loro si evolvono, cioè quindi i vari Padre Pio, San Francesco, Giorgio, non è che la stigmatizzazione e la sofferenza che vivono, in primis è per loro, ma poi per tutti. Più di una volta Giorgio ha detto, le stimmateli io nel mio corpo, ma sono di tutti noi, cioè il segno è nostro, non è mio. Quindi sono dei laboratori alchemici, alchimizzano il nostro karma e quindi è una di quelle deroghe che Gesù, che Cristo dà per volontà del Padre a tutti coloro che avrebbero fatto quella scelta. Quindi è nella legge di causa-effetto, ma è anche fisica, cioè si manifesta attraverso queste entità, cioè uno spurgo karmico che ti lava di quel karma. Invece chi non riconosce lo stigmatizzato, la sua predica e si ravvede, pagherà il karma di quella sofferenza. Quindi da un lato salva, da un lato condanna. Avanti l'altra domanda. Scusa, ovviamente siccome anche lo stigmatizzato è un essere umano, per quanto Cristo è in lui, anche lui commette degli errori e dei peccati, ma il primo che si autopurifica è lui, ovviamente. Certo. Certo.